Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Mi trovo qui nel bosco vestito da boscaiolo perché ho appena finito di abbattere e spezzare gli ultimi alberi. Adesso vi faccio vedere cosa è venuto fuori. Qui siamo nella zona esattamente dove in futuro si troverà l'ingresso per l'area sosta camper. Quindi andatevi a vedere i video dove parlo appunto della realizzazione dell'area sosta camper. Lì ho fatto alcuni video dove metto quei nastrini bianchi e rossi a delimitare le piazzole, la strada eccetera e vedrete la differenza tra com'era e com'è adesso. Allora qui praticamente è la zona ingresso sostanzialmente e esattamente in questa zona qui davanti era prevista il camper service, quindi zona carico scarico delle acque. Visto che qua già c'è una specie di stradina che ovviamente si può fare ora solo col trattore ma sistemandola un po' può essere utilizzata anche dai camper e qui praticamente era la zona dove prevedevo di fare i parcheggi prima di arrivare alla reception, prima di entrare effettivamente diciamo nell'area sosta. E qui adesso vedete sostanzialmente com'è il bosco. Allora qui praticamente non si vedeva assolutamente nulla, laggiù in fondo c'è quel fosso profondo e la strada doveva salire sostanzialmente lungo il fosso per andare lassù. Qui avevo già previsto alcune piazzole, una strada che da là sostanzialmente tornava indietro per ricongiungersi all'ingresso e qui sostanzialmente dove è così bello piano avevo già previsto un bel po' di piazzole. Le altre le avevo previste là sopra, qui dove è così scosceso con tutti quei sassi resterà naturale, bosco, mentre sopra praticamente c'è ci sarebbe un'altra area con piazzole. E ora si riesce a vedere fino lassù dove è il confine che è lassù dove ci sono quei primi mucchi di legna che si vedono là. Poi magari io adesso qui sul video della DJI Osmo Action non riesco a inquadrarli per benino. Comunque lassù ci sono delle prime cataste di legna, lassù è il confine. Qui prima non si vedeva assolutamente dove era il confine. Quindi quest'area qui adesso sarà circa un ettaro, forse un pochino meno. E questa diciamo era già tutta zona dove era previsto fare campeggio. Ecco, adesso nei prossimi giorni si tratterà di pulire la legna, quindi togliere tutti i ramoscelli, farli diventare tutti stecchi più o meno dritti senza rami, dritti insomma senza rami, senza ramificazioni, e poi finito ciò si comincerà a portare via la legna che abbiamo abbattuto e che abbiamo sistemato così, cioè che abbiamo sparso qua in giro. Quindi oggi, che è il 26 di aprile, ufficialmente ho finito di abbattere gli ultimi alberi. Forse qua e là se ne potrebbe tirare giù qualcuno in più, ma direi che per il momento basta così. Ok, per questo video sul taglio della legna e un po' sull'area sosta camper è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!